Col deposito della firma di ieri da parte di 14 consiglieri comunali abbiamo decretato la fine dell'esperienza amministrativa targata Stefano Lubrano. Per quanto mi riguarda è stata un'esperienza dalla quale trarre tanto insegnamento. La mia firma ieri è stata il frutto di un percorso nel quale ho creduto moltissimo, sia dal primo minuto, ho creduto molto nella possibilità di realizzare un progetto di governo di centrosinistra per la nostra città, ho creduto molto in Stefano Lubrano Singaco, tuttavia nel giro, nell'arco di questi mesi mi sono resa conto della inattuabilità del nostro programma, per tante ragioni, per tante responsabilità. Le responsabilità di fallimenti non sono mai da una parte sola, ognuno è bene che in questi momenti rifletta per quanto riguarda le responsabilità di ciascuno. Dicevo la firma di ieri ha sancito la fine di un'esperienza, era l'unico atto a disposizione di un consigliere comunale per acclarare l'impossibilità a portare avanti un progetto. Credo che sia stato un atto di estrema chiarezza, di estrema onestà da parte di chi come me si è discostata, non si riconosceva più, non tanto nel progetto, nel nostro programma, ma nei metodi e nella inattività, nell'inerzia, nell'immobilismo che ci ha caratterizzato in questo anno e mezzo. Per quanto mi riguarda, devo dire che ho svolto in questo anno un ruolo molto importante. Mi sono veramente, come dire, ho avuto il privilegio di essere il presidente del consiglio comunale della mia città e ieri ha significato per me anche la fine, naturalmente, di questa esperienza. Voglio dirlo con molta chiarezza anche ai miei concittadini. Per me sarebbe stato molto facile, molto semplice, voltarmi dall'altra parte, non guardare tutte le mancanze, le inefficienze di questo anno e mezzo, l'incapacità, andare avanti, tenere quella che è una poltrona molto comoda e anche ben remunerata e far finta di niente, andare avanti e continuare a stare al mio posto. Io ho rinunciato, ho rinunciato al ruolo, ho rinunciato a qualche privilegio, ma lo faccio a testa alta, convinta di aver fatto ciò che la città meritava, cioè restituire la parola ai cittadini, quando si fallisce bisogna avere il coraggio di assumere delle responsabilità, fare un passo indietro e ridare, come in questo caso, la parola agli elettori.